Benvenuti cari cripto afezionati in questo nuovo video con un nuovo airdrop. Siamo nuovamente sulla rete di Solana e con un progetto che va a riprendere comunque come narrativa quella di Jupiter. Quindi andremo ad interagire comunque in lungo e largo lato, swap, perp, insomma andremo ad utilizzare una narrativa che abbiamo visto e rivisto comunque più volte. Però la cosa bella è che su Solana si pagano meno fees, quindi una gioia seppur non siamo in testnet, ma è come se lo fossimo perché sono davvero talmente tanto basse che ci porta un grandissimo vantaggio di interazione. Se questa tipologia di contenuti vi piacciono ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bene, direi di passare a schermo, di non perdere tempo e quindi vedere cosa dover fare, specialmente di quale progetto sto parlando. Eccoci quindi cari cripto afezionati su Drift, altro progetto che si trova appunto proprio su Solana come detto. Quello che vediamo all'interno, e ci cade subito all'occhio, ed è già la specifica comunque principale di questo progetto, che poi è simile a Jupiter, anzi se non identico, è la parte proprio della partecipazione, quindi l'utilizzo della piattaforma stessa. Qua infatti quello che vediamo abbiamo o gli semplici swap, quindi andiamo a fare un cambio tra queste coin che sono direttamente su Solana, abbiamo i Perpetual, quindi strumenti con della leva, che tra l'altro non so neanche quale sia, eccolo qua. No, più che altro voglio vedere se mi dà una percentuale lo stesso, no, devo avere comunque del capitale, altrimenti non me la fa mettere, che non ho ancora messo nulla qua sopra. Però all'interno qua, come era anche per Jupiter, è andare a creare volume tramite operazioni di trading. In questo caso abbiamo, beh, tipo Sol, abbiamo un po' di cose, quindi non è l'unica, abbiamo un po' di coin abbastanza comunque liquide per poterci ovviamente muovere e specialmente dobbiamo calcolare il fatto che pagheremmo le fees di Solana, ovvero nulle, cioè davvero 0,0. A differenza ad esempio di un GMX per dire che è su Arbitrum, abbiamo già delle fees un pochettino più alte, no, perché comunque parliamo di 10, 20 centesimi, magari lo 30 a volte a seconda delle gas fees di come sono in quel momento, che possono andarci a far pagare ovviamente di più, sia in apertura sia in chiusura. Mentre su Solana in questo caso avremo delle fees molto, ma molto, molto, molto più basse. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a creare volume classico, long, short, che sia, con lo strumento che vogliamo. Possiamo farlo sia tramite spot, sia tramite comunque la parte di swap, come abbiamo detto prima, e possiamo utilizzare anche la leva comunque sulla parte spot. Vedete che abbiamo 5x, 2x comunque su, questo non ci interessa, via. Come coin non abbiamo tanto, abbiamo un po' di wrap token principalmente, però abbiamo la possibilità di farlo con appunto la leva di margine che vogliamo utilizzare. Perché dico Drift? Perché Drift è comunque collegato direttamente anche a Jupiter, quindi anzi, ve lo faccio vedere subito. Quello che abbiamo di Drift è proprio Drift Leverage Swap Future Powered by Jupiter. La cosa bella è che appunto utilizzano sostanzialmente la tecnologia, la tecnologia dell'interfaccia, comunque tutto quello che è creato appunto da Jupiter. Qua all'interno loro, come ho detto, se avete swappato nella loro piattaforma sarete elegibili per l'airdrop di Jupiter, quindi utilizzando Drift. La cosa bella è che Drift ha la potenzialità che potrebbe rilasciare poi lui a sua volta un airdrop, perché è collegato sempre allo swap tramite Jupiter, e magari non così grande come può essere stato quello di Jupiter, ma potremmo avere comunque un piccolo ritorno anche da questo, movimentando dei piccoli volumi. L'altra cosa interessante è che non hanno raccolto capitali giganteschi, ma come in realtà neanche Jupiter l'ha fatto, perché Jupiter ha raccolto 10 milioni, qua stiamo parlando di 4 milioni, quindi siamo più bassi, però siamo sempre comunque all'interno di quella cifra, quindi potrebbero esserci comunque dei ritorni di questo genere. Quindi dico questo perché semplicemente si può interagire tuttora, quindi andando a creare dei volumi e possiamo comunque sfruttare questa parte, come vediamo anche qua, Gito Sol, M Sol, insomma tutte le parti frappate insieme anche a Peeth, quindi abbiamo un po' di cose. Abbiamo anche la parte di Land and Borrow, che sarebbero anche all'interno per smuovere i volumi, ovviamente la parte più facile come movimentazione, ragazzi, è senza dubbio Perpetui, Spot e Swoop, senza dubbio. Cioè sono più facili per chi magari non sa utilizzare il Land and Borrow, quindi quella è un'altra categoria, però potete fare queste cose, queste movimentazioni, anche su Drift. Adesso non sarà l'unico progetto che vi porterò, c'è da capire appunto perché su Solana, essendoci delle fees basse, ci vuole molta più movimentazione, molte più transazioni per accumulare più fees, ovviamente da parte delle DAP in questo caso, quindi magari gli Airdrop possono essere leggermente più piccoli, anche se comunque Jupiter è stato molto buono come movimentazione, quindi non lo tralascerei. Altra cosa importante perché fare questo, perché vi ricordo che il primo snapshot su Jupiter è stato preso, ok? Su Jupiter, dove è andata a finire? Eccolo qua. Su Jupiter, noi abbiamo ancora due snapshot, quindi due snapshot di due Airdrop che ci saranno successivamente. Quindi utilizzare Jupiter e utilizzare anche Drift ci può dare appunto la possibilità di essere elegibili anche sugli altri due Airdrop. Quindi se utilizziamo Drift, quindi anzi non solo Drift, ovviamente anche Jupiter di nuovo per gli altri snapshot, ci può tornare assolutamente utile per una futura comunque elegibilità. Perciò potrebbero essere due piccioni con una fava sostanzialmente, ma al che vada comunque ci si piglia soltanto Jupiter e niente Drift. Però penso che anche Drift rilasci un qualcosina più avanti, anche perché si parla di più tempo, quindi ha anche più tempo per accumulare nuovi capitali. Fatemi sapere se lo farete, se magari l'avete già fatto, anzi perché lo conoscevate già, e insomma aggiorniamoci sotto nei commenti per nuove considerazioni. Criptoaffezionati, abbiamo visto comunque su Solana che in lungo e largo tra Pit, Jupiter, Gitu, insomma si stanno muovendo, stanno arrivando, magari non sono quelli grossissimi come possono essere stati quelli di Arbitrum, però insomma Pit diciamo che ha regalato delle ottime gioie comunque come Airdrop, perciò ecco non c'è da sorprendersi di niente, ma c'è anche comunque da prendere la palla al balzo e sfruttare queste occasioni. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdervi nuovi airdrop su Solana e non solo.